Ciao a tutti, sono Donato Neri e vi do il benvenuto sul mio canale dedicato alle automobili, alla guida e ai consigli per gli appassionati di motori. Prima che mi dimentichi, vi invito subito a iscrivervi e a lasciare un like se il video vi piace. Ora, senza ulteriori indugi, passiamo all'argomento di oggi. Le auto elettriche stanno acquisendo sempre maggiore forza all'interno del mercato internazionale e sono una realtà molto ben consolidata. in svariate realtà mondiali. Le elettriche sono scelte, spesso e volentieri, per fare da flotta taxi o servizi o passeggeri, così in questa ottica nasce anche la mobile Islimo. Quest'ultima è una quattroporte di medie dimensioni totalmente elettrica, nata dall'unione di intenti di Renault e della cinese Yangling. La nuova creatura avrà il debutto personale al prossimo Salone di Monaco di Baviera, il 7 settembre 2021. Sotto ai riflettori della Kermest tedesca ci sarà molta attesa nei confronti di questo veicolo che avrà un futuro tra le flotte di taxi e noleggio con conducente. La Limo, da non confondere con la Limousine, garantisce un'autonomia di circa 450 km ciclo WLTP, e si rivolge soprattutto a quegli autisti di professione che cercano per i loro spostamenti giornalieri un veicolo a basso impatto ambientale, ma soprattutto con un look moderno e frizzante. L'offerta di Mobilize. Mobilize ha in serbo diverse soluzioni studiate per far fronte alle tantissime esigenze richieste dal settore del trasporto persone, tra le quali, garanzie del costruttore, manutenzione, assicurazione e soluzioni per la ricarica del veicolo. Per chi utilizza la vettura in modo occasionale sono previste soluzioni pay as you drive, quindi massima flessibilità su durata e chilometraggio. Per quanto riguarda i contratti di noleggio, questi verranno gestiti da R.C. Bank & Services, la società finanziaria del gruppo Renault. Una ricarica da 250 km in breve tempo. Gli assemblaggi e le specifiche sono paragonabili a quelli offerti dalle moderne berline medio-grandi della concorrenza, confermano i tecnici di Mobilize, specie quelle europea e giapponese. Il direttore dei veicoli di Mobilize, Jill Normand, spiega i pregi di questa vettura. Il vero punto di forza della nuova Mobilize, l'Imo e il motore elettrico, che dà il meglio di sé in città, il contesto in cui si svolge la maggior parte dell'attività del trasporto delle persone. La nuova berlina si ricarica facilmente e velocemente, infatti per fare il pieno di energia alla batteria agli ioni di litio da 60. KWH basta collegarsi a qualsiasi colonnina pubblica o servirsi di un'infrastruttura di ricarica domestica di tipo wallbox. Con la ricarica veloce, sono sufficienti 40 minuti per ottenere un'autonomia di 250 chilometri.